Buonasera e benvenuti a Servizi e Tutela, questo secondo appuntamento della trasmissione nata in collaborazione con CGL Perugia e dedicata alla cittadinanza, una serie di consigli su come districarsi fra dichiarazione dei redditi, pensione, disoccupazione, altri aspetti come l'Isee. Ecco, in questa puntata con cui inauguriamo la serie tecnica di appuntamenti con Servizi e Tutela parliamo proprio dell'Isee. Ospiti, Roberta Prosperi, buonasera Roberta, coordinatrice provinciale di Servizi e Tutela, formatrice delle operatrici provinciali di CGL e abbiamo Lorenzo Mazzola di sinistra universitaria Udu Perugia, buonasera Lorenzo, che è anche garante degli studenti dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario. Allora, cominciamo subito Roberta, cos'è l'Isee e quali sono le principali agevolazioni per cui è necessaria la sua presentazione? Allora, sì, buonasera a tutti. L'Isee è un indicatore che viene preso appunto a riferimento per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che quindi vogliono accedere a delle prestazioni economiche e sociali agevolate. Possiamo dire che va a misurare il livello economico complessivo di un nucleo familiare tenendo conto di numerosi flattori che appunto possono influenzare il calcolo perché ricordiamo l'indicatore Isee è appunto un calcolo che viene effettuato sulla base di alcuni fattori che vengono indicati al momento della presentazione. Però non possiamo dire che si tratti di una vera e propria somma algebrica quindi non bisogna fare l'errore di pensare che sia semplicemente la somma dei redditi di un nucleo familiare ma ci sono appunto delle variabili che vanno a condizionarne il calcolo quindi ad esempio la presenza di figli minori, la presenza di disabilità all'interno del nucleo familiare o altri fattori che appunto vedremo poi analizzando questa pratica dal punto di vista più tecnico. Per ottenere l'attestazione Isee è necessario presentare la cosiddetta DSU che è la dichiarazione sostitutiva unica che è un documento che viene presentato appunto al momento dell'appuntamento presso i nostri uffici in cui vengono presentate tutte le componenti patrimoniali e reddituali di tutti i componenti del nucleo familiare. Isee ricordo che può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno quindi non c'è un vero e proprio periodo da individuare Non c'è una scadenza? No, esatto, può essere presentata in qualsiasi momento però riguardo alla scadenza occorre ricordare che tutte le Isee presentate vanno a scadere al 31 dicembre dell'anno di presentazione quindi quelle presentate ad oggi scadranno il 31 dicembre del 2024 e poi andranno rinnovate per l'accesso a determinate prestazioni. Poi riguardo questo ci sono appunto tutti gli uffici dislocati nella provincia che come abbiamo detto danno indicazioni sia riguardo la presentazione sia riguardo appunto i documenti da presentare al momento dell'appuntamento. L'Isee è composto come dicevamo da un vero e proprio calcolo un calcolo di base che è definito Isee ordinario il quale tiene conto di tutti i redditi, i patrimoni, dei componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia e poi ci sono degli ulteriori indicatori che variano in base alla prestazione che io devo andare a richiedere quindi esiste un Isee sociosanitario per l'accesso a tutte le prestazioni per le persone che sono non autosufficienti o comunque hanno una disabilità e devono andare a richiedere una prestazione sociosanitaria oppure per l'accesso alle residenze protette e le case di cura e quindi un Isee specifico da questo punto di vista l'Isee universitario che quindi occorre per l'accesso al diritto allo studio e quindi il calcolo delle cosiddette tasse universitarie poi ci sono l'Isee minorenni che va calcolato tutte le volte in cui i genitori non sono entrambi all'interno del nucleo familiare quindi è un calcolo specifico e poi c'è l'Isee corrente l'Isee corrente va presentato non contestualmente all'Isee ordinario ma va presentato dopo aver già acquisito l'Isee ordinario e deve essere presentato tutte le volte in cui c'è una situazione peggiorativa rispetto a quella presentata nell'Isee e quindi c'è la possibilità di aggiornare l'Isee con dati più attuali per poter appunto accedere a determinate prestazioni agevolate Comunque va presentato l'Isee ordinario sempre? Sempre, esatto Questi sono tutti indicatori che possono occorrere per determinate prestazioni e appunto al momento dell'appuntamento sarà l'operatore stesso l'operatrice del CAF che guiderà la persona che è di fronte per capire quelle che sono appunto le necessità che può avere un nucleo familiare Comunque, come abbiamo già detto nella scorsa puntata l'Isee è il punto di partenza fondamentale per l'accesso a numerose prestazioni che magari possiamo cogliere adesso l'occasione per fare una piccola panoramica e vedere appunto quali possono essere richieste anche per chi ci ascolta Sicuramente l'assegno unico L'assegno unico che è stato introdotto e va richiesto per tutti i figli a carico fino ai 21 anni di età e disabili senza limiti di età Ricordo che l'Isee deve essere aggiornato preferibilmente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno per permettere all'Inps poi di erogare in maniera diciamo costante e continua l'importo dovuto per quel determinato nucleo familiare Poi abbiamo l'assegno di inclusione di cui avevamo parlato l'altra volta il supporto formazione e lavoro sono tutti strumenti per cui è necessario obbligatoriamente presentare l'Isee e anche la carta dedicata a te che è stata introdotta l'anno scorso e erogata dai comuni valida anche nel 2024 per cui anche in questo caso è obbligatorio la presentazione del modello Isee L'ultimo punto riguarda tutte quelle riduzioni legate appunto alle utenze per cui occorre fare una distinzione Fino allo scorso anno tutte le agevolazioni riguardo quindi luce, gas e acqua quindi parliamo delle utenze appunto che ogni nucleo familiare sostiene per l'accesso ai servizi riguardo questo lo scorso anno la soglia Isee per le agevolazioni era pari a 15.000 euro quest'anno non è stata confermato questo innalzamento della soglia quindi si torna a quello precedente che è 9.350 solo c'è un limite più alto per i nuclei familiari con almeno 4 figli in cui il limite sale a 20.000 euro quindi ricordiamoci che mentre prima le famiglie potevano accedere a questo beneficio in automatico solo con la presentazione dei Isee con un tetto a 15.000 ora invece appunto scende a 9.350 quindi questa è un po' un'idea di quelle che possono essere le agevolazioni di base rispetto alla presentazione dei Isee ce ne sono poi tante altre legate al diritto allo studio, la mensa, i trasporti che tra un po' vedremo comunque per ogni informazione si può contattarvi assolutamente peraltro ecco nella puntata precedente abbiamo abbiamo parlato dei vari centri in cui rivolgersi della CGL e diciamo quando una persona verrà da voi, dalle vostre operatrici quali documenti sarà necessario esibire per poi insomma portarvi insomma tutto il necessario per poi svolgere le pratiche? Sì, questo è importante anche perché la pratica Isee si è particolarmente complicata nel corso degli anni allora base di partenza sicuramente è il documento di identità in corso di validità del richiedente e il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare quindi questa è sicuramente la base per poter partire nella compilazione della pratica ricordo anche che è irrilevante chi assume il ruolo di dichiarante all'interno degli Isee perché l'attestazione è valida per tutti i componenti del nucleo familiare quindi non c'è necessità di ripresentare Isee per delle prestazioni diverse per altri componenti del nucleo una volta presentato è valido per tutti i componenti indipendentemente da chi assume il ruolo di dichiarante poi concetto spesso difficile da far comprendere a chi si rivolge a noi è l'anno di riferimento rispetto ai dati da inserire quindi cerchiamo di fare adesso un po' di chiarezza rispetto a questo allora abbiamo due date diciamo a cui far riferimento la prima è sicuramente la data di presentazione della dichiarazione quindi ci sono dei dati che vanno presi a riferimento rispetto a quando un soggetto si presenta da noi questo è sicuramente la composizione del nucleo familiare quindi vuol dire che anche se un soggetto ha preso residenza all'interno del nucleo familiare anche il giorno precedente rispetto a quando il dichiarante si presenta da noi quel soggetto deve essere incluso nel nucleo bene quindi lo stato di famiglia al momento di presentazione nel giorno attuale di presentazione esatto stesso discorso vale anche per eventuali disabilità riconosciute anche in quel caso al momento di presentazione il possesso di auto e moto di cui deve essere fornita la targa anche in quel caso si fa riferimento al giorno della presentazione e anche il canone di locazione per quei nuclei familiari che sono eventualmente in affitto che dovranno portare quello in essere al momento appunto dell'appuntamento in ufficio non quello riguardanti anni pregressi quindi tutto questo al momento della presentazione mentre dobbiamo far riferimento a due anni precedenti quindi siamo nel 2024 dobbiamo far riferimento al 2022 per tutti i redditi e i patrimoni quando parliamo di redditi quindi dovremmo inserire quelli che sono i redditi da lavoro dipendente da lavoro autonomo, da pensione e altro mentre per quanto riguarda il patrimonio tutti i componenti del nucleo familiare dovranno portare con sé l'attestazione riguardo i depositi che hanno presso istitui di credito banca, posta o qualsiasi altro intermediario come ad esempio un'assicurazione per questi dovranno fornire per tutto ciò che ha IBAN per semplificare dovranno portare il saldo al 31 dicembre del 2022 e la giacenza media 2022 per tutti quei rapporti invece quindi parliamo di titoli, fondi carte prepagate senza IBAN buoni e altro a quel punto è sufficiente invece il saldo e il valore nominale al 31 dicembre del 2022 e quindi questa è la documentazione quando facciamo riferimento invece al concetto di nucleo familiare come dicevo prima bisogna fare riferimento allo stato di famiglia viene sempre ricompreso però il coniuge quindi anche se il coniuge ha una residenza diversa comunque deve essere indicato sempre esatto nel medesimo ISEE quindi i coniugi vanno sempre inseriti nello stesso nucleo ai fini dell'attestazione devono essere ricompresi naturalmente i figli minorenni e anche i figli maggiorenni conviventi qual è la differenza rispetto alla normativa che è stata introdotta a partire dal 2024 dal primo gennaio 2024 tutti i figli maggiorenni non conviventi ma a carico a fini IRPEF devono essere per forza ricondotti al nucleo dei genitori questo non accadeva precedentemente perché con la normativa relativa al regno di cittadinanza era stata fatta una distinzione c'era un limite di età che erano 26 anni per cui se un soggetto aveva più di 26 anni e risiedeva diversamente dai genitori poteva essere escluso e questo permetteva che cosa? la fruizione del regno di cittadinanza a tutti coloro appunto che erano fuori dal nucleo dei genitori esatto con questa nuova normativa oltre ad essere ricondotti nel nucleo familiare questi soggetti rischiano quindi di perdere anche numerosi benefici economici e torniamo al discorso fatto l'altra volta che abbiamo già visto come il passaggio tra regno di cittadinanza e assegno di inclusione ha visto comunque delle persone e delle fasce di popolazione escluse da questo beneficio rispetto alla precedente normativa poi vanno inserite tutti gli altri componenti che possono far parte del nucleo ma che appartengono comunque allo stato di famiglia va posta attenzione a quei nuclei familiari dove ci sono dei minori ma i genitori non sono entrambi residenti in caso di genitori separati o divorziati a quel punto sarà sufficiente indicare i dati enagrafici dell'altro genitore quindi noi partiamo sempre dalla composizione del nucleo familiare dove è residente il minore che è l'ise di partenza per qualsiasi agevolazione poi in caso di soggetti separati o divorziati a quel punto noi dobbiamo indicare solo i dati enagrafici discorso diverso invece per i genitori non coniugati e non conviventi cioè che non hanno mai contratto matrimonio e che hanno residente quindi diverse a quel punto l'altro genitore per accedere a tutte le prestazioni riguardanti i soggetti minori dovrà fornire tutta la documentazione come qualsiasi altro componente del nucleo quindi redditi, patrimoni, eccetera sfatto salvo che non ci sia e non sia intervenuta una sentenza da parte di un tribunale che abbia pattuito degli assegni mensili a favore dei figli solo in quel caso l'altro genitore può essere escluso ed inseriti solo eventualmente i dati enagrafici quindi abbiamo fatto un po' un attimo una panoramica rispetto a quello che è appunto l'attestazione però ecco mi preme dire che non si tratta di una somma algebrica perché sono veramente tante le componenti che possono portare ad arrivare al calcolo di questo indicatore ogni componente appunto farà sì poi che tutta la somma di questi redditi venga abbattuta rispetto a una cosiddetta scala di equivalenza che però è condizionata da tanti fattori disabilità presenza di minori quindi non escludiamo a priori che un nucleo familiare possa rientrare all'interno di un'agevolazione magari semplice dente guardando la somma dei redditi che percepiscono all'interno del nucleo perché appunto possiamo vedere e abbiamo visto in questi anni che ci sono numerose cose che condizionano il mutuo perché comunque può essere inserito il debito residuo del mutuo il canone di locazione come detto le disabilità quindi noi siamo insomma a disposizione per valutare qualsiasi situazione presente ogni caso possibile allora parlavamo prima di diritto allo studio allora vorrei subito chiedere a Lorenzo Mazzola di farci anche una panoramica della situazione qui in Umbre degli studenti il cui diciamo il problema più importante di cui si parla ormai da settimane e da mesi è la crisi abitativa c'è stato anche una lettera da parte vostra alle istituzioni quali novità abbiamo? allora diciamo che anche quest'anno purtroppo così come come l'anno scorso ci siamo trovati a far fronte a una gravissima situazione di crisi abitativa tanti studenti che avevano diritto quindi a ricevere un alloggio dell'agenzia per il diritto allo studio regionale se lo sono visti negato di fatto in prima convocazione e questo ha portato a riversare tutti questi studenti nel mercato del privato un mercato che è estremamente problematico perché ovviamente è in atto una vera e propria bolla speculativa le poche case disponibili che sono sempre meno complice anche la turistificazione del centro storico vengono affittate a prezzi altissimi o con contratti con clausole vessatori anche quest'anno siamo scesi in piazza all'inizio di quest'autunno e abbiamo deciso come ricordavi tu prima di inoltrare anche una lettera all'assessore Agabiti dopo la lettera l'assessore ha deciso di convocare un incontro un incontro qui ho avuto modo appunto di dialogare appunto con l'assessore le abbiamo posto innanzi la situazione e chiedendole appunto soluzioni e presentando anche quelle che sono le nostre proposte che avevamo elaborato di concerto perché ci tengo a ricordarlo in questa battaglia il sindacato fin da subito ci ha dato una mano ed è stata al nostro fianco l'anno scorso ospitandoci proprio all'interno della Camera del Lavoro ma anche soprattutto costruendo insieme le proposte che poi noi abbiamo portato in tutti gli organi in tutti gli organi istituzionali quindi abbiamo presentato nuovamente l'assessore a queste richieste si parlava di mobilità notturna di rinnovo del servizio Adibus che purtroppo non solo non è stato rinnovato ma anzi è stato sospeso a partire dal 4 dicembre si parlava di calmerazione del mercato degli affitti privati di inserire una maggiore attenzione al canone concordato di rivedere di riconvocare quanto prima il tavolo per la definizione dell'accordo territoriale si parlava tra le tante cose di stabilizzare la notax area a 30 mila euro e soprattutto di aumentare i posti letto al primo incontro ne sarebbe dovuto seguire un secondo che purtroppo non ha avuto luogo perché all'ultimo ci sono stati appunto degli impegni da parte dell'assessora e non si è più proceduto insomma a riconvocare il tutto se comunque seppur timidamente la regione ha dato inizialmente quantomeno una risposta di ascolto anche se poi dopo non è scaturito nulla nel pratico perché nonostante i posti alla fine quest'anno siano stati coperti è anche vero che sono stati coperti perché molti degli studenti ricevendo una comunicazione da parte della regione che i posti letto non erano sufficienti si sono letteralmente precipitati a prendere in affitto la prima casa che trovavano magari anche a condizioni di prezzo esorbitanti o magari molto distante dalla propria sede universitaria in quartieri poco forniti di servizi e questo di fatto ha causato uno spostamento di persone vulnerabili perché ricordiamolo chi usufruisce del sistema dell'edito allo studio è privo di mezzi e questi mezzi dovrebbero essere forniti dalle istituzioni cosa che invece non è stato fatto e quindi sono dovuti andare nel mondo del privato ho capito quindi attendete ancora una risposta su questo punto attendiamo ancora una risposta su questo e noi chiediamo e continuiamo a chiedere che in prima convocazione si possa avere tutti gli studenti che richiedono un posto letto diritto a usufruirlo un altro attore invece completamente assente che non ci ha nemmeno appunto ascoltato sul tema che non ha fatto nemmeno una dichiarazione sullo stato di crisi abitativa è il comune di Perugia il comune di Perugia letteralmente non ha proceduto non solo ad ascoltarci ma non ha fatto assolutamente nulla anzi praticamente non si è espresso ha ignorato del tutto il problema e quindi va bene cogliamo l'occasione proprio grazie a questo appuntamento per rinnovare anche questo appello vogliamo ricordare con Roberta che tra le prestazioni dell'ISEE si applica anche a quelle per il diritto allo studio universitario no? sì come accennavi anche poco fa sì cerchiamo un attimo di fare il punto collegandoci appunto anche alla presenza importante appunto di Lorenzo qui con me oggi e come detto l'ISEE può essere anche richiesto al fine universitario ricordiamoci che però al momento dell'appuntamento va ricordato appunto che c'è la necessità di richiedere questa attestazione in modo che poi al momento del rilascio dell'attestazione dell'indicatore sia visibile proprio nell'attestazione rilasciata nella documentazione sia il codice fiscale dello studente e sia che l'ISEE è valido ai fini universitari proprio per essere presentato per le varie agevolazioni che prevede l'università poi cosa fa l'università naturalmente va a suddividere in delle fasce gli studenti universitari per poi corrispondere un importo specifico di quelle che sono le tasse pagate durante l'anno non serve solo per le tasse universitarie naturalmente ma anche per l'accesso alle borse di studio e tutte le altre diciamo le agevolazioni legate al reddito che riguardano tutta la parte appunto del percorso universitario la documentazione da esibire è esattamente la stessa può essere richiesto contemporaneamente all'ISEE ordinario ricordiamoci però che c'è una distinzione il punto di partenza è sempre dove risiede lo studente quindi si fa lo stesso ragionamento fatto per i soggetti minori poi da lì dobbiamo andare a vedere quello che è il rapporto tra i due genitori stesso discorso separati divorziati oppure genitori non coniugati non conviventi quindi non cambia nulla rispetto a quel che abbiamo visto c'è solo un altro concetto il concetto di autonomia dello studente perché come sappiamo potrebbe accadere trattandosi di soggetti maggiorenni che questo soggetto possa abitare in un nucleo diverso rispetto a quello dei genitori come dobbiamo ragionare il ragionamento che fa l'università e di cui va tenuto conto al momento della presentazione dell'ISEE è che lo studente per poter fare ISEE in maniera autonoma e quindi sganciandosi dal nucleo familiare dei genitori deve avere due condizioni che si verificano contemporaneamente quindi dobbiamo verificare due determinate condizioni la prima è che lo studente sia residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di presentazione della dichiarazione quindi dal momento dell'appuntamento in cui uno ci si presenta due anni esatto e soprattutto in un alloggio che non sia di proprietà di un membro della famiglia quindi non può essere una seconda casa in cui viene appunto sistemato lo studente perché altrimenti lo studente deve essere comunque ricondotto al nucleo di origine seconda condizione deve avere un'adeguata capacità di reddito per adeguata capacità di reddito si intendono 9.000 euro lordi che lo studente deve poter dimostrare di aver percepito nelle due annualità precedenti quindi siamo nel 2024 facciamo riferimento all'anno di imposta 2022 e 2023 quindi queste sono le due condizioni da verificarsi appunto contemporaneamente l'adeguata capacità di reddito precedentemente era fissata a 6.500 euro ora siamo saliti a 9.000 e questo appunto rende anche qui un pochino più complesso appunto l'accesso a determinate prestazioni perché capiamo che per i più giovani già 9.000 euro lordi molto spesso sono esatto diventano per assurdo un traguardo importante bene rispetto a questo ecco non abbiamo differenze rispetto all'ISE che abbiamo visto precedentemente e alla documentazione appunto già presentata ricordiamo semplicemente che nel caso in cui lo studente non possa essere considerato autonomo a quel punto dovrà fornire anche tutta la documentazione del nucleo familiare di origine quindi dei genitori oppure se i genitori hanno già presentato un proprio ISEE dovrà portare con sé l'attestazione già rilasciata ok per integrare esatto benissimo allora torniamo a Lorenzo Mazzola perché volevo volevo chiederti quali sono le principali richieste che vengono fatte a voi insomma come UDU dagli studenti allora comincio col dire che l'ISEE universitario come lo ricordava prima Roberta è fondamentale per noi studenti spesso e infatti mi è fatto piacere proprio che prima l'abbiamo specificato ma ci tengo di nuovo a dirlo l'ISEE non è una somma algebrica molti studenti vengono da noi dubbiosi chiedendoci magari ma ha senso che io faccia l'ISEE temo di essere in fascia massima ecco quello che noi rispondiamo è che nella stragrande maggioranza dei casi non si è in fascia massima e visto che chiedere l'ISEE presentare la dichiarazione sostituitiva unica non ha di fatto di per sé un costo ma consente invece di accedere a un sacco di benefici gli consigliamo proprio di rivolgersi al CAF al sindacato per calcolarlo perché nella stragrande maggioranza dei casi è fondamentale e consente di accedere in primis a uno sconto importante sulle tasse universitarie ma soprattutto a quello che poi è un principio di progressività e di equità della tassazione di fatto paghi quanto puoi effettivamente permetterti in base alle condizioni economiche della famiglia d'origine un'altra domanda che ci viene spesso posta sono tutte le consulenze sul servizio di borse di studio e sulla no tax area 30.000 euro ecco l'ISEE universitario è fondamentale in particolar modo sempre rimanendo sul tema delle tasse per ricevere anche quello che è un esonero totale dalle tasse universitarie per legge fino ai 22.000 euro non si pagano tassi universitarie ma nella nostra regione siamo particolarmente virtuosi e questo è dovuto al fatto che dopo circa sei anni di battaglia in materia è nata quella che noi chiamiamo no tax area 30.000 euro ovvero un sistema per cui abbiamo espanso la fascia di esenzione dai 22.000 euro previsti dalla legge fino ai 30.000 euro così facendo circa uno studente su due può non pagare le tasse universitarie o meglio da 22.000 e 30.000 vengono pagate ma si va a completo rimborso quindi 100% di rimborso un rimborso sicuro dopo qualche mese quindi praticamente lo studente paga le tasse dell'università la regione gliele rimborsa esatto al 100% per questo è fondamentale avere un isei universitario è fondamentale che venga presentato ovviamente all'università e all'agenzia di diritto al studio e che si proceda a fare domande ricordiamolo per la no tax area 30.000 euro sono ancora aperte le domande c'è la possibilità di fare domanda fino al 12 febbraio e quindi lo ricordiamo anche qui chi vuole usufruirne può presentare domanda sul sito adiso e lorenzo quali sono invece le iniziative che voi proponete agli studenti ecco su questo lo ricordava adesso anche lo ricordava adesso anche roberta una delle altre cose che ci è stata segnalata è proprio questa questione relativa all'indipendenza degli studenti universitari tanti studenti stanno stanno praticamente trovandosi in situazioni di estrema difficoltà estrema difficoltà perché di fatto magari fino all'anno scorso con la normativa dell'ISEE 2023 risultavano indipendenti complice anche questo cambiamento adesso non lo risultano più e si ritrovano riattratti nel nucleo familiare d'origine questo provoca di fatto un innalzamento delle proprie condizioni parliamo di studenti che per l'appunto avevano raggiunto una condizione di indipendenza magari erano andati a vivere da solo emancipandosi anche dalla famiglia d'origine che ora si ritrovano in una situazione di difficoltà e peraltro privati dell'aiuto che invece lo Stato dava loro nel discorso annato ecco per questo noi ci stiamo muovendo a livello nazionale anche con il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari anche sempre in compagnia del sindacato per proporre anche una modifica di questo di questo sistema e una revisione di questa fascia lo ricordava prima anche Roberta 9.000 euro sono un traguardo difficile da raggiungere per gli studenti soprattutto perché spesso si parla di un primo impiego di un primo ingresso in un mercato del lavoro che è sempre più asfittico precario di fatto molti studenti hanno un contratto a chiamata un contratto atipico questo porta non solo a non avere una stabilità di reddito ma spesso ad avere un reddito estremamente basso ben al di sotto del limite dei 9.000 euro che è considerata la soglia di indipendenza e spesso ci si trova a essere attratti nella famiglia d'origine che è altrettanto problematico spesso perché il tessuto sociale è cambiato da quando fu introdotta la norma dell'ISEE e le famiglie sono sempre più disgregate spesso e volentieri ci si tratta di situazioni familiari che possono essere problematiche o la cui documentazione da recuperare può essere particolarmente difficoltosa spesso peraltro ci sono anche difficoltà proprio nel riuscire a presentare l'ISEE perché di fatto magari alcuni genitori non vogliono fornire le proprie indicazioni reddituali e quindi lo studente magari si ritrova collocato in fascia massima pur se in situazione estremamente difficile quindi ecco invitiamo a seguire i consigli di Lorenzo e Roberta di rivolgervi al sindacato UDU e al sindacato CGL servizi finanziari ecco direi che siamo giunti al termine di questa puntata con Roberta brevemente di cosa parleremo nella prossima nella prossima si occuperemo di disabilità non autosufficienza e delle varie agevolazioni fiscali appunto che è possibile che è possibile richiedere e a cui è possibile accedere benissimo un'altra quindi puntata tecnica interessante per coloro che vorranno insomma presentare quest'altro tipo di agevolazioni grazie mille a Roberta Prosperi e a Lorenzo Mazzola arrivederci e ai nostri telespettatori l'appuntamento è lunedì alle 20.30 con servizi e tutela arrivederci a in a a Grazie a tutti.